Presidente Malagò, a che punto siamo con i giochi del Mediterraneo? Sappiamo che c'è stato il decreto, però siamo un pochino in ritardo. Nella tradizione del Paese, insomma, il tema è ovviamente la grande accelerazione sulle opere, però il decreto garantisce i finanziamenti. Sento quotidianamente Carlo Molfetta, che è la parte organizzativa dell'area sport, che è una garanzia. So che il Ferrarese è impegnato pancia a terra su quello che sono le attività. Insomma, sapere che ci sono i fondi, finalmente c'è la legge, il CDA è entrato, il comitato è pienamente funzionante. È chiaro, insomma, c'è da recuperare, ma è nello stile della casa del Paese. Prima ha detto che i giochi di Milano Cortina sono stati una via crucis. I giochi del Mediterraneo come si possono definire? Una piccola via crucis. Grazie. Però questo non vuol dire che sono convinto che otterremo i migliori risultati. Questo lo dico con grande franchezza. Grazie. Grazie.